io sono federica più nota sul web come sweet as a candy e sono imprenditrice la mia storia iniziata nel 2009 ai tempi lavoravo in uno studio di consulenza del lavoro e seguivo già diversi blog soprattutto americani e mi incantava a guardare queste foto bellissime di questi arredamenti o decorazioni particolari e ai tempi decisi di aprire anche il mio blog la svolta è stata quando sono rimasta incinta del mio primo bambino di Gianmarco mi sono proprio lanciata nel buio e ho provato a trasformare quella che stava già iniziando a trasformarsi in un'attività però in quella che adesso è al cento per cento la mia professione la prima gravidanza sicuramente è un grandissimo cambiamento anch'io avevo tante paure tante preoccupazioni era l'inizio di una nuova fase prima volta che ho visto Gianmarco è stato indescrivibile a parte il fatto che ero un po' distrutta dalle ore e ore e ore ma a parte quello la gioia è stata veramente è indescrivibile condividere significa tantissimo è un qualcosa che hai dentro e ho sempre sentito questa necessità di condividere le mie passioni con altre persone e quindi assolutamente è alla base di quello che faccio è alla base del del rapporto che si è anche creato con le persone che mi seguono le donne secondo me sono oltre perché anche quando non credono di farcela o pensano di non essere in grado in realtà in certe situazioni scoprono avere delle doti e una forza che in realtà è dentro di sé e quindi sono sanno sempre essere oltre anche se ancora non lo sanno sono sempre oltre anche se ancora non lo sanno